Grazie a tutti. Presidente Grasso e dal lavoro di tutti i compagni, io voglio ringraziare, e lo dico sinceramente, non come frase fatta, voglio ringraziare, anche se sembra paradossale, i partiti fondatori, possibile Movimento Democratico e Progressista e Sinistra Italiana. Perché senza la loro decisione, un anno fa, di dar vita a liberi uguali, oggi non saremmo qui. Grazie a quella decisione, compagni di diversa provenienza, hanno imparato in quest'anno di vita che si può e si deve lavorare insieme. Non è stato facile, perché compagni, tra di noi ci sono differenze, anche tra noi che abbiamo organizzato questa assemblea ci sono differenze, quindi non è mai facile rimanere unitari. Guardate, io non credo che ci sia un partito che sia mai monolitico, cioè costituito da compagni, da persone che la pensino sempre e tutti allo stesso modo. Per questo io dico, evitiamo noi per primi atteggiamenti divisivi, perché noi non siamo qui, l'abbiamo detto in più occasioni, a dare pagelle a dire chi ha tradito cosa. Noi siamo qui perché noi vogliamo una casa comune. Abbiamo detto, dobbiamo essere aperti. Ho cercato di dire prima, le varie posizioni che ci sono devono essere ricchezza del dibattito e dell'elaborazione di questo partito che chiamiamo liberi uguali. E allora, in questo senso, dobbiamo parlare di tante cose. Qualcuno è stato detto già nella relazione introduttiva, nel discorso di prima, altri li diranno dopo, quindi non le riassumo. Dobbiamo parlare di tante cose. Dobbiamo parlare anche di tante cose scritte, venute fuori, lette in questi giorni, prodotte da articolo 1 da Sinistra Italiana o da altre situazioni al di fuori. Dobbiamo parlarne. Ma il punto vero è che quando questi temi si discutono nell'ambito di una casa comune, questi temi, queste elaborazioni, diventano ricchezza dell'elaborazione collettiva. Se si elaborano in case diverse, diventano motivo di divisione. Noi nascevamo, dicevamo, per unire e non per dividere. Questo era il nostro obiettivo, questo è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo un altro partito, non vogliamo essere il terzo, il quarto, il quinto partito della Sinistra. Vogliamo un partito, come si è detto fin dal nascere, che superi gli attuali soggetti. Noi siamo già il partito di liberi e uguali. E quindi io cerco di abbreviare. In questi giorni leggiamo tante dichiarazioni, comunicati, in cui tutti si afferrettano, si sentono in dovere, sentono il bisogno di decretare la morte di liberi uguali. Noi dobbiamo dire, e anzi, io ho anche letto che noi qui oggi, o i comitati nei giorni precedenti che preparavano l'Assemblea, non eravamo altro che il partito del Presidente Grasso. Qualcuno ha scritto addirittura che eravamo il partito Grasso la forgia. Non è così, lo dobbiamo dire. Il problema è, e lo sappiamo tutti, che i territori hanno prodotto decine di comunicati, decini di appelli, che sono stati inascoltati. Ed è un merito del Presidente Grasso ad avere mantenuto fede agli impegni presi. Il Presidente Grasso ci ha appoggiato, ha detto semplicemente, banalmente direi, sono d'accordo con voi, manteniamo l'impegno preso, non ci ha mai posto nessuna condizione politica. Per questo io dico ripensiamoci, confrontiamoci, confrontiamoci con il nostro popolo, accantoniamo le differenze che oggi talvolta appaiono strumentali e diamo forza e vigore ad un progetto che io ritengo necessario. Quindi sciogliamo, come promesso, i partiti di provenienza. Ma io non lo dico con a credine, io lo dico in quello spirito che dicevo inizialmente, unitario, di fare un partito più grande, dove discutere, dove discutere delle differenze, dove litigare, ma dove poi si fa sintesi. E quindi in questo senso, dopo, andiamoci a confrontare con tutti, con De Magistris, piuttosto che con Rifondazione, piuttosto che con Potere al Popolo, con chi volete, con tutte le esperienze che sono in campo, ma ci andiamo con una nostra identità forte. E in questo senso, scusate la franchezza, ma lo dico con affetto, io non vengo da nessun partito, quindi io non ho, per fortuna, remore nei confronti di sinistra italiana piuttosto che di altri. Noi sappiamo che essere classe dirigente non è semplice. Bisogna sapere ascoltare, confrontarsi, decidere e indicare la rotta. Ma sappiamo anche che non si è classe dirigente se non si è riconosciuti almeno dal proprio popolo. Non è un'investitura burocratica a renderci dirigenti. e allora in questo senso non possiamo ripartire dopo ogni sconfitta con un nuovo anno zero in cui si presentano formule come nuove, ma che continuano a sapere di vecchio. Nuovi partiti, nuove alleanze. Dopo ogni sconfitta, l'uovo di Colombo che noi scopriamo è facciamo un altro partito, facciamo un'altra alleanza. Perché penso, compagni, che una parte di niente è niente, è ancor meno di niente. Chiudo. Devo saltare tutte le tante cose che dovevo dire, ma voglio finire così allora. Con spirito aperto lo dico, ripeto con spirito aperto, non per dare pagelle, per dire noi siamo qui, siamo pronti a discutere. Quindi ripartiamo da quello che siamo già, una comunità che già si riconosce come tale. Perciò ripensiamoci, risediamoci, non disperdiamo queste passioni, queste volontà, queste intelligenze. Sediamoci intorno a un tavolo, litighiamo, ma per andare avanti. Mettiamoci al servizio dei militanti e del Paese. Usciamo da qui, compagni, poi ci saranno altri interventi che spiegheranno, ma usciamo da qui per riprendere a fare politica. Riprendiamoci le piazze, i luoghi di lavoro e quelli della disperazione, perché quelle sono le nostre piazze.